buongiorno buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzioni l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore che mi chiede di dei capelli di calvizie se l'audio mp3 dal titolo no calvizie può fare al caso suo bene parti dal presupposto che l'ipnosi che un rilassamento della mente del corpo dove tramite suggestioni positive si cambiano le immagini da negativa positiva agisce sulla mente sul corpo e sulla tua vita visibile invisibile per cui anche i tuoi capelli all'ordine capelli cresci capelli non cadete più capelli rispuntate obbediscono agli ordini della tua mente della tua parola delle tue parole le suggestioni naturalmente sono arte ragazzi è vero che trattasi di parole pulite trasparenti comprensibili naturali senza nessun effetto collaterale e senza nessun danno però non tutti sanno dare le suggestioni giuste per far in questo caso arrestare la caduta dei capelli o far ricrescere gli stessi capelli rendendoli più forti per cui diffidate anche dai cosiddetti ciarlatani che usano la parola ipnosi che trovate anche in tutto il mondo perché se non vedete risultati vuol dire che non funziona perché le suggestioni ripeto ancora una volta le parole non sono quelle giuste ricordati che l'ipnosi prima di essere scienza perché riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione medica mondiale 1958 dalla chiesa con papà proprio nel 1847 e arte tutti sanno fare dipingere ma non tutti sono artisti tutti anche nel mondo dell'ipnosi conoscono l'ipnosi ma non tutti sono artisti non tutti hanno il metodo giusto per cui per concludere a questo signore dico se tu utilizzerai l'audio mp3 che scarichi direttamente sul sito internet www.ipnologiassociati.com dal titolo no calvizie tu vedrai i tuoi capelli crescere molto più velocemente fermare la calvizia la caduta e addirittura far spuntare capelli nelle zone in cui non ci sono non devi credere nessuna parola del sottoscritto devi provare 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 e poi puoi giudicare con un solo audio mp3 dcs senza bisogno di fare sessioni online di ipnosi dcs vera e professionale che al momento sono sospese perché è sottoscritto molto impegnato tu anche con un solo audio puoi vedere delle cose incredibili mai viste in tutta la tua vita ok per cui fidati che fa al caso tuo anche se hai alopecia areata oppure qualche problema relativo ai tuoi capelli quest'audio mp3 così potente e professionale ti risolverà il tuo problema se hai dubbi quesiti anche la domanda più banale scrivimi per email soprattutto io ti risponderò direttamente tramite uno dei miei collaboratori dell'associazione i prologi associati di los angeles baby hills e anche la domanda la più stupida ok visita il museo dell'internet www.ipnologiassociati.com visita la mia fanpage su facebook ipnosi audio ipnosi del dottor claudio saracino visita iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesta del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può far cambiare la vita e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesta del dottor claudio saracino e ricordati non devi credere devi fare perché l'ipnosi è riconosciuta a livello mondiale e non è l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi conformista commerciale l'ipnosi da spettacolo che ricordate un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino alla prossima grazie a tutti